Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Simona Ventura si prepara a vivere una stagione televisiva 2024-2025 particolarmente intensa, divisa tra gli impegni con Rai e Mediaset. Dopo una lunga pausa estiva trascorsa a ricaricare le energie in seguito al matrimonio con Giovanni Terzi. La conduttrice tornerà alla guida di citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego e sarà presente anche nel cast di Che Tempo che fa sul 9. Tuttavia, secondo un'indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, Ventura potrebbe avere ulteriori sfide in vista, con una potenziale collaborazione su Canale 5 che la vedrebbe coinvolta in un progetto definito ambizioso. Oltre agli impegni con la Rai, Ventura farà un'apparizione speciale nella prima puntata della nuova stagione di Verissimo, dove condividerà in esclusiva le immagini del suo recente matrimonio. Sebbene i dettagli sul nuovo progetto Mediaset siano ancora avvolti nel mistero, sembra che Berlusconi stia valutando di affidare a Ventura un programma di rilievo su Canale 5, confermando così il suo ruolo centrale nel panorama televisivo italiano.